Salve amici del Centro Medio Italiano, temporanea rimonta dell'anticiclone sulla nostra penisola determina condizioni di generale bel tempo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 25 aprile. Al mattino cieli generalmente sereni da nord a sud salvo locali addensamenti su Liguria e Alpi del nord orientali. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Appennini ma con generale assenza di fenomeni. In serata è in nottata perturbazione in arrivo sulle isole maggiori con deboli piogge sparse, nubi in aumento al nord ma sempre con tempo asciutto, temperature minime in leggero aumento, stazionari invece le massime. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Grazie a tutti.